Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del... come tirano? Vabbè domani, del Teresinosaurus-like Mi piace veramente tantissimo, lo faccio vedere, il fatto è vero particolare Allora, si deve dire che non è accordo scientificamente manco per il cibo, per il fatto che mancano un sacco di visual scientifica A me piace, per il fatto che ha un aspetto quasi da carnivoro, da cattivolo Questo collo allungato, mi ricorda molto Erasmosauri e Plesiosauridi E mi piace un sacco, infatti questo collo allungato è veramente di fare proprio quello di un Erasmosauro Ed è proprio minacciosissimo, e già questa cosa mi fa impazzire Poi c'è il piumaggio del corpo La coda è rossa E c'è tipo il self-mimicrai Che cosa di spettacolare C'è proprio il pattern A parte vabbè, forse il correddito dovrebbe essere color rosso Chi se ne fotte Ma Poi Ho io un altro numero del modello Le braccia articolate Vedete Non Non hanno un coloro uniforme Secondo me sarebbe stato molto meglio Tipo Poi è stato fisso così O così Non sempre vedo così Ecco il braccio così abbassato non mi piace proprio per niente E così invece il braccio avessero alzato Questo così E l'avessero fatto Così Con le braccia fisse Soprattutto con una pancia Volevo vedere la pancia Volevo vedere la panza gonfia E mi sarebbe piaciutantissimo Volevo vedere la panza gonfia Senza vedere le cose Tutta la panza gonfia 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 Come se L'attura secondo me Sono in antile carnivoro Ma vabbè Comunque sia È il mio atto minaccioso E infine I piedi Non dovrebbero avere tre dita Non dovrebbero avere Quattro Essendo un erbivoro Loro Lo rappresentano come Un teropode Mutato Come erbivoro Praticamente E Fino qualche mese fa Pensavo pure io fosse così Poi io ho scoperto che no Invece non è così Sono molto ignorante Lo so Però Comunque sia La testa è squamata Poi Nel collo C'è una transizione da piume Passa squame E questa cosa Non può far altro Che farmi impazzire Il fatto che è un modello Poi bello grosso Bello Questa è la mia mano Sicuramente posso compararlo A un modello Che tutti noi Abbiamo nella collezione Che è un modello Sicuramente non è 1.35 Dico il modello Vero Per darvi un'idea E Grosso Vado che il Tiger Credo ce l'abbiamo quasi tutti In collezione Cioè non è un modello Che qualcuno Cioè il Tiger È un modello molto conosciuto Anche direi Quindi Leviamo la scoglietta Che non ci interessa E Vuol dire Bel modello Realizzato Benino Ma Troppo grosso Secondo me Però comunque Se per 20 euro Ti porti a casa Questo modello Che è fatto Veramente bene Per 20 euro Tipo il PNSO Che costa più di più Che è accurato Scientificamente Però PNSO mi dà troppo l'idea Da gallinaccio Bra Tipo Non mi piace Ma questo invece è molto minaccioso Quindi Fatto meglio Quello PNSO Però Non saprei Non mi convince parecchio Il fatto che sia più Sineombra Tipo Gallinaccio Poi Mi piace un sacco La scienza Quindi potrebbe essere bello Però Dico Lo ripeto Non ha un aspetto Molto accattivante Ecco Non è com'è Questo modello Che Ha un aspetto Molto accattivante Rispetto a quello là Però Dico Se vi piace Potete comparare a 20 euro Potete andare tranquillamente Per il treno E tra l'altro C'è pure una protezione aggiuntiva Gli RT Se mi ricordo Bene Mi ricordavo male Non ce l'ho Per il fatto Mi ricordo Che qua c'è la protezione aggiuntiva Gli RT Differenziati di slide Che vengono venuti Di prendere anche all'aria Come vi suol dire Quindi Questo è l'unico difetto Che posso dire Modellino È che È troppo magro Secondo me Per l'un grado Dove molte ricerche scientifiche Dicono che sia Grasso Per le quattro dita Però vabbè Comunque sia È un modellino Molto accattivante Sicuramente Il meglio che si poteva fare L'hanno fatto Con 20 euro 25 euro Il cazzo è Tu ti porti a casa Questo Non è che ti porti a casa Un modello dei cinesi Ti porti a casa Questo E quindi Secondo me Vale la pena Almeno 20 euro Per questo modello Se siete appassionati ai dinosauri E cose che cazzo Quindi Cosa ne pensate E poi Magari Vi faccio uscire Io tipo Dunca delle action figure Che ho comprato qualche Mese fa Non le ho portate su questo canale Perché Non Non volevo Però ragazzi Dato che Io Renderlo più Di un canale di modellismo Di collezionismo Generico Dato che in Italia Non ce ne sono molti Magari vedo di Di fare Questa cosa Grazie a tutti Grazie.